Noi concludiamo davvero in bellezza con questa esibizione così particolare, una danza del ventre Emanuela Suanno da Milano. Noi, noi. Grazie. 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 Che ritmica, che sensualità, insomma cari amici della notte, adesso sarà difficile per voi dormire, o comunque farete bellissimi sogni. Emanuela Suanno, tu arrivi da Milano, ma sei stata anche a visitare i luoghi dove è nata la danza del ventre per addentrarti nell'essenza della cultura e questa arte. Vado spesso, ma soprattutto Milano ha una grande cultura anche araba, perché ormai siamo tutti... C'è una comunità araba molto grande in Milano, come penso anche a Roma, e quindi in te scambiamo anche a Milano senza bisogna andare al Cairo, in Turchia. Grazie, grazie davvero Emanuela, mentre scorrono i titoli di coda, io vi ringrazio, spero insomma di avervi fatto conoscere davvero gli artisti del futuro, gli artisti di domani, un grande livello questa sera. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a voi per la vostra attenzione. Antonella vi dà appuntamento ad una nuova puntata di New Stars Notte. Grazie a tutti.